ciao amici di vacanze l'andia sono qua in compagnia con alberto ferrari titolare di camping life ciao alberto ciao a tutti gli amici di vacanze l'andia bene alberto ha da presentarci tantissime offerte strepitose di accessori camper caravan per il mese di marzo adesso c'è la sigla e poi dopo chiederemo alberto tutti queste offerte che lui ha preparato ed eccoci qua a vedere queste offerte strepitose di camping life grande alberto hai preparato proprio un pacchetto molto ricco per questo marzo 2021 di accessori camper sì diciamo che ci sono impegnato tutti i mesi noi variamo questo mese è particolarmente interessante dal mio punto di vista ma saranno interessanti anche gli altri guarda io ho visto sia i prodotti in anteprima perché mi hai suggeriti mandandomi alcune informazioni ma anche soprattutto i prezzi perché i prezzi che tu hai fatto sono veramente molto molto convenienti quindi io penso che gli amici vacanze l'andia siano anche loro curiosi di vederli prima cosa direi che possiamo partire a guardare la pagina dell'offerta che è sul sito camping life punto it adesso mettiamo anche la scritta sotto in modo che si possa capire bene di cosa stiamo parlando e sul sito camping life c'è proprio la sezione specifica offerte del mese dove adesso chiederemo alberto perché noi siamo molto curiosi di presentarci tutti questi prodotti che sono stati da te selezionati e inseriti in questa specifica parte del sito camping life bene alberto io direi che sono molto curioso di dell'oblò dell'oblò perché secondo me la primavera è la stagione giusta per poter rinnovare anche il camper certe volte l'inverno rovina questo particolare pezzo che è sopra la nostra scocca oppure si guasta il meccanismo perché poi alla fine sono prodotti che stanno al freddo che stanno al caldo e io ho visto che hai messo questo blog ad un prezzo strepitoso cioè parla 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 faccio vedere un canto questo blog a tutte le nostre offerte in genere sono al costo o sottoposto quindi è sempre molto conveniente questo è lo blog in offerta vedete mi allontano così si vede un pochino di più della sua interessa 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 c'è la cornice interna e la parte esterna quindi è compresa c'è già la cornice di finitura ha il solito meccanismo a levetta vediamo se riesco a farlo aprire perché montato è facile tra l'altro vedo che c'è anche una fascettina di protezione quindi riesco proprio aprirlo appena appena comunque il casco blog tf40 questo qua è lo blog che viene montato su quasi tutti i veicoli direi fino agli anni duemila circa è uno blog standard foro 40 per 40 esterno lo montavano un po tutti i safariways è il nag e chi più ne ha chi ne metta quello comune 40 per 40 bianco quello che serve alla maggior parte dei camperisti ma è una domanda la sostituzione è tolgo quello vecchio poi prendo il sigillante metto quello nuovo cioè alla fine il foro lo stesso è facile sopra se lo guardate ha dei piccoli fori in questi fori ci sono dentro delle vitine in genere sono coperte con del sigillante basta togliere il sigillante si tolgono tutte le vitine sotto c'è dell'altro sigillante in strisce però stati in genere lo trovate anche quello in pacchettini da tre metri sul sito che sono andati per fare qualunque oblo si toglie si pulisce bene si rimette giù si rimettono le viti e finita lì diciamo il prodotto standard purtroppo è un prodotto sì che è di discreta qualità nonostante sia un prodotto piuttosto economico però dobbiamo capire che sta vent'anni all'acqua al sole al gelo col tempo tende a cuocersi non fa miracoli poverino e infatti oppure la guarnizione perde la tenuta ci sono tante cose che certe volte più conveniente più conveniente toglierlo e sostituirlo rispetto che fare delle riparazioni più o meno di un prodotto perché questo qua ha al prezzo di 27 euro quindi abbiamo un prodotto veramente economico che io ho dato un occhiato un po in giro e posso dirti che il tuo è il prezzo più basso che c'è adesso in giro su questo tipo di oblo. Sono assolutamente certo cioè solo contiamo cosa costa la cupola di ricambio probabilmente costa di più l'intero oblo. Sì e poi dopo sotto hai degli ottimi feedback quindi tutti confermano che è un ottimo prodotto e facile da installare quindi diciamo che questa qua è la prima offerta che può rinnovare un oblo di un camper che casomai con la vecchiaia si è un po rovinato. Esatto vale la pena rischiare che magari un oblo cotto faccia infiltrare un veicolo quando se ne abbiamo su tre con meno di cento euro li cambiamo tutti e tre. infatti e poi un lavoro unico uno si passa un po' il tempo e in questi periodi in cui tempo ne abbiamo tanto è cosa buona giusto? Ci mettiamo a posto il camper prima di poter ripartire con tutta tranquillità per le prossime esperando di partire presto. Esatto. Poi ho visto che hai messo anche un portabici per i furgonati. Esattamente. Quello per ovvie questioni di spazio non ce l'ho da farti vedere fisicamente. Vabbè vabbè però è sempre comunque un'offerta particolare strepitosa perché ho un pezzo così basso io non l'ho trovato e quindi questo qua che furgoni si adatta questo portabici? Questo è un portabici che produce trem che è una ditta abbastanza famosa nella produzione di portabici subito dopo fiamma. Basta pensare che tutti gli attacchi predisposti che montava Elnag fino al 2005-2006 erano per i portabici trem quindi fornivano proprio il primo impianto per anni. Quindi un prodotto di qualità assoluta non ce n'è da discutere. Riusciamo a averli a dei prezzi particolari perché facciamo delle quantità notevole e come dicevo prima nelle offerte in genere le nostre offerte sono sempre prodotti al costo o addirittura sotto costo. Questo qua si adatta praticamente a qualsiasi furgonato sul Ducato X250 o X290 quindi dal 2006 di produzione fino ad oggi. si fissa direttamente alle porte non vanno forate le porte ha dei sistemi come dire delle manine che si agganciano nelle fessure della porta e non lascia segni non dannezza niente non copre i fanali è fatto apposta per quel veicolo. Ok qui vedo che è un due posti i biciclette. Sì sì sì. Quindi non è possibile avere di più ma è un portabici per due bici giusto? Esattamente non è una questione cioè non è il produttore cattivo che non vuole farlo a tre è la questione che purtroppo le cerniere della porta del Ducato più di tanto non possono portare. Un altro produttore ne ha fatto una versione a tre ma prevede un ancoraggio completamente diverso che bisogna forare le cerniere e ancorarsi al cerniere è una cosa molto più invasiva mentre qua è una cosa che non tocca nulla come il veicolo originale resta. Poi ho visto che innanzitutto immagino che se uno non ha bisogno lo mette e se uno non ha bisogno lo toglie può viaggiare senza portabici quindi è una cosa molto semplice non parlo. Si smonta e si smonta piuttosto rapidamente. Ok e poi è possibile aprire la porta del furgone del camper con i portabici? Certo che sì assolutamente le porte si aprono regolarmente se non eccediamo col peso dalle biciclette anche sulle biciclette. le biciclette montate con porta chiusa perfettamente se si vuole aprire la porta è meglio aver scaricato le biciclette per diciamo non sollecitare troppo le cerniere della porta. esattamente poi lui si apre non ci sono problemi però se vogliamo che le cerniere durino a lungo forse è meglio. Eh sì ma è meglio meglio sì perché poi alla fine parliamo di comunque di biciclette comunque hanno un loro peso più porta biciclette che anche se fatto leggero il suo peso è toccato una porta finché si viaggia così va tutto bene dopo si scarica non si arriva al posto e poi si può continuare ad utilizzarle perfettamente. Ottimo allora poi ho visto un prodotto che secondo me molti sottovalutano ma poi è fondamentale che sia di un certo tipo di qualità perché altrimenti non serve assolutamente a nulla. E io ho visto i cunei. I cunei. Esatto. Perché ci sono tanti cunei in commercio che sono più o meno resistenti più o meno diciamo alti. E questo devo dire che tu hai scelto un cuneo che innanzitutto è di un ottimo produttore e poi l'hai messo a un prezzo veramente eccezionale 25 euro per una coppia di cunei di questo tipo di prodotto. Esattamente. Questi qua sono i classici cunei della tool. Praticamente sono il massimo della qualità che c'è su questa fascia di cuneo attualmente in commercio. possiamo paragonarli al level up della fiamma sostanzialmente praticamente identico. Colore nero. Tre livelli. Vediamo se si vedono. Sì sì. Tre livelli. Si vedono che fanno le condolazioni. E sacca contenitrice già in dotazione. Spettacolare. Perché di solito quando si mettono via sono sempre sporchi di fango di qualsiasi cosa. Esattamente. E dopo uno li infila nel gavone e sporca tutto. Esattamente. E qua resta tutto dentro perché la sacca è impermeabile. Ma poi al di là di quello non so se ci avete mai notato ma il cuneo ha quella forma che finché lo vedete qua nella pellicola sta bello posto, bello ordinato. Ma poi quando rimetti via che li appoggi uno sull'altro nel gavone questi vanno a tutte le parti. Mamma mia. Lascia perdere. Guarda li trovi a tutte le parti. E invece con la sacca oltre a rimanere diciamo sporco dentro quindi il gavone non è non c'è bisogno di dopo di darsi di pulire il fango che ci poteva essere attaccato ai cunei non vanno poi cioè rimangono lì non vanno in giro comunque se vanno in giro vanno in giro tutti insieme. Ma poi essendo che la sacca è meno liscia proprio tendono meno a scivolare nel gavone diciamo più comodo dai è più comodo. L'unica cosa che bisogna avere qua quando li si utilizza è sempre quella lo ricordo perché a volte capita purtroppo che c'è chi non ci vada e poi li danneggia che sono comunque un apparecchio seppur di plastica molto robusta di plastica quindi quando li si utilizzano è bene che la superficie sotto sia il più piana possibile perché se noi ci mettiamo un sasso qua in mezzo e poi ci saliamo con tutto il peso del camper per tutto il peso si concentra in un unico punto è ovvio che poi c'è il rischio che si danneggi. Infatti è fatto bene da questo consiglio perché alla fine un cuneo non è perfettamente aderente al terreno si creano proprio delle forze che poi possono rovinarlo. Esatto. Una ruota in un camper se si va può essere anche due quintali un quintale e mezzo diciamo un quintale può essere. e se facciamo i pesi dovrei fare anche due. Sette o otto quintali mi sono sbagliato perché tre tonnellate e mezzo sono sette o otto quintali di peso che vanno su una superficie normale. Si parla anche magari di oltre dieci quintali sul povero cuneo. Quindi si hai ragione. Era un attimo confuso con i pesi per fortuna che mi hai mai ripreso. Perfetto dai poi ho visto anche delle altre offerte. Ecco anche questo per me è un'offerta molto molto interessante che è quella dei tendalini. anche qui tu hai scelto un marchio che io conosco benissimo, che conosco molto bene e hai fatto degli ottimi sconti. Ho visto anch'io che su internet i prezzi più bassi non ne ho trovati perché è lo stesso tendalino che abbiamo noi. Noi abbiamo il tunnel Omnistro proprio 4009, quello argentato perché noi siamo più che soddisfatti. quindi hai scelto un ottimo prodotto. Che poi ho sul mio ti dirò eh. Come? Alla fine è lo stesso che ho sul mio. Ah quindi alla fine. È un ottimo prodotto. Un ottimo prodotto poi devo dire che quando l'ho preso io rispetto agli altri era quello che aveva anche il peso più contenuto. Sì è vero, in effetti il 4009 credo sia il più leggero tra i tendalini in commercio. Nonostante sia comunque un tendalino premium con delle caratteristiche di un certo livello, molto robusto e dal resto il marchio Omnistro Tool parla solo, non ha bisogno di presentazioni. C'è l'antipiega in modo che quando ritiri sul tendalino non si limita la possibilità. È un prodotto tedesco di qualità, un buon prodotto, senza nulla a togliere gli italiani che sono assolutamente pari. Però questo ha un rapporto qualità prezzo che dal mio punto di vista è imbattibile. Sì infatti poi il tendalino, anche chi non ha il tendalino casomai può prendere questa occasione di questa offerta di marzo per per pensarci, per farci un pensierino. Come invece chi ce l'ha e casomai un colpo d'aria l'ha un po' diciamo un po' messo fuori squadro può anche cogliere l'occasione per cambiarlo. Ma che misure ci sono i tendalini? Allora di mezzo metro in mezzo metro, parchiamo da 3 metri e arriviamo fino ai 4,50. Quindi 3, 3,50, 4 e 4,50. Poi ho visto che c'è anche delle colorazioni diverse oppure è una colorazione unica? Allora diciamo l'offerta per questo mese è riferito alla colorazione bianca di Cassonetto. Quindi sono escluse le colorazioni alluminio e antracite. Però invece, mentre per i teli abbiamo le due possibilità, il telo grigio mystic e il blu. Quindi bianco sta bene su tutto e uno poi sceglie il proprio gusto del telo che vuole. Poi teniamo presente che anche i fornitori negli ultimi periodi, forse per agevolare l'installazione sui vari veicoli, hanno un po' diciamo neutralizzato i colori dei teli. Perché uno ci dicono che è blu, l'altro ci dicono che è grigio, ma in realtà se li mettiamo in fianco, sì, uno tira più al blu, l'altro tira più al grigio, ma in realtà è un grigio bluastro e un grigio un po' più scuro. Quello è. E poi un'altra cosa che ci tenevo a dire, per chi già ha un tendalino Omnistore che se lo sostituisce con il 4009 non deve sostituire il staffer. Quindi non è possibile montare, toglie solo le viti di fissaggio o i rivetti in base a come è stato montato, sgancia sul tendalino e attacca l'altro al palio. Ah, questo qua velocizza, cioè, chiunque può fare una cosa del genere, nel senso che se uno c'è da un futuro Omnistore... Tutte le Omnistore, tanti hanno l'Omnistore perché ne hanno prodotti per anni, parliamo di 5.000, 5.200, cos'è, 8.000 anche alle stesse staffe, ce n'è veramente una vastità. Ok, ottimo, perfetto. Poi adesso volevo pensare un po' alle donne perché hai selezionato un accessorio anche che può interessare le donne ed è questo, è lo stendino, lo stendino con 30 mollette, ok, con 30 mollette, ed è uno stendino che mi incuriosisce molto perché è diverso dagli altri, a parte il fatto che ha un prezzo eccezionale, 5.90 per uno stendino, cioè, veramente, 5.90... Una miseria. Una miseria. Cioè, è veramente un costo bassissimo. Però mi piace come è fatto, perché per me è tantissimi utilizzi molto, molto intelligenti. Ce l'hai da farcelo vedere? Certo che ce l'ho, eccolo qua. Allora, questo qua è uno di quegli accessorietti che io chiamo accessorietti furbi. Perché? Prima di tutto costa una miseria, quindi ce lo possiamo comprare praticamente tutti. E ha un grosso vantaggio. Questo qua noi ce lo appendiamo tramite questo gancio che è pressoché universale, è una pinzetta sostanzialmente, si può mettere su un palo, su un dito, addirittura su un appendino per le giacche volendo. Ok. Non incontra praticamente nulla, è leggerissimo perché è tutto in plastica e alluminio. Alluminio? Alluminio, sì. Tutta la parte che vedi qua è tutto in alluminio. Si apre proprio veramente in un secondo e abbiamo un sacco di spazio per stendere. Pensiamo quando siamo al mare d'estate, che tutte le sere abbiamo i costumi da appendere, le magliette e così via. Questo lo possiamo montare sia per dire nella doccia, se abbiamo spazio, che tirarcelo fuori in un niente e attaccarlo a un braccio del tendalino. Sì, esatto. A qualunque cosa lo possiamo appendere. È veramente una comodità disarmante. Sì, poi ha tante mollette, quattro linee di mollette, quindi ci possono stendere anche tanti capi. No, veramente tanta roba, non si direbbe, ma aumenta lo spazio esponenzialmente. Poi ha il senso di robustezza, con il fatto che c'è l'aste di alluminio e tutti quei tiranti che lo rendono molto centrato, secondo me ha anche molta resistenza, oltre ad essere compatissimo quando lo metti via, perché poi se spiaccia tutto diventa sottilissimo. Poi faranno quattro centimetri. Sì, quindi si fila dappertutto. Può stare ovunque, veramente. Non ingombra quasi nulla. E poi veramente, come dici tu, è molto robusto, non è un giocattolo. È una cosa fatta bene, nonostante il prezzo molto basso. Sì, ci sono anche le foto che si possono ingrandire sul tuo sito. È veramente un prodotto 5,90 euro. E tra l'altro anche questo è un prodotto marchio tedesco, questo fa un prodotto che ci fornisce Reimo, quindi una roba di una certa qualità. C'è anche i tedeschi, sono forti su queste cose. Ok. Poi volevo evidenziare anche quest'altra offerta, che secondo me è molto importante, soprattutto per chi ha il camper già con qualche anno, che l'ha già usato, oppure chi ha comprato il camper, diciamo, usato recentemente e vuole, diciamo, dargli una certa significata, il kit Fresh Up della Tethford. Esattamente. Che conviene spiegarlo perché non si limita solo ad avere la cassetta, che comunque è una cassetta in più, quindi aumenta l'autonomia del camper. Ma perché c'è anche delle altre cose che possono essere utili per rimettere, diciamo, in sesto il WC. Lo apriamo, Lorenzo? Sì, dai, lo apriamo, dai, lo apriamo. In diretta chiediamo di fare tutto. Noi vorremmo essere lì a vedere, però... A vero, è difficile, è sempre più difficile muoversi accidenti, però... Per fortuna che questi mezzi ci possono permettere di poter capire bene le cose e... Innanzitutto ho fatto una controllata e hai messo un prezzo che è veramente... 99,90 euro è un prezzo che non l'ho trovato, non l'ho trovato su internet. Allora, questo prodotto assolutamente originale Tedford si chiama Kit Fresh Up. Cosa comprende il Kit Fresh Up? Fino a qualche anno fa il Kit Fresh Up comprendeva anche due liquidi, ma in realtà poi era sempre un problema perché durante i trasporti perdevano, dannezzavano, rovinavano, li hanno tolti. Adesso comprende esclusivamente un bel sedile di ricambio, la crascasse, per intendersi. Ok. E la cassetta. Sì, e la cassetta. Poi questa qua è la cassetta che ha le ruote. Esatto. Quindi se per caso una ha il modello che era senza ruote, così c'è anche le ruote. Allora, Nii, nel senso che questo è la versione per la serie C200, quindi C223 e C224 di Tedford. C223 e C224 sono sempre nati con le ruote e non sono intercambiabili. Questo può essere acquistato sia per rinnovare il sistema WC di chi ha magari acquistato un camper usato, sia per avere una seconda cassetta tenendo un sedile di scorta che potrebbe comunque venire buono. È l'unica cosa appunto che è compatibile appena con quei due modelli che ti ho indicato. Ok. Se si ha il WC senza le ruote, quindi probabilmente, anzi sicuramente un C200 o un C234, che sono serie un pochino più datate, abbiamo anche quelli. Ovviamente hanno un prezzo un po' diverso, ma sul sito, sempre come keep fresh up, si trova anche quelli. Gli abbiamo per tutti i modelli Tedford. Ok. Tu hai tutti i modelli, però in offerta c'è questo qua specifico del C220. Esatto. Questo mese c'è questo. Poi... Sì, va bene. Ottimo. No, va bene. Intanto è un prezzo eccezionale. Poi questa qua è una toilette molto diffusa, quindi sicuramente... Ricordiamo che tutti i veicoli entry level degli ultimi entry level e anche la fascia media montano quasi tutti questo tipo di cassetta negli ultimi 5-6 anni, forse 7. Quindi anche i veicoli recenti. Esatto. Questa è soprattutto dedicata a veicoli un pochino più recenti. arriveremo anche qui al veicolo un pochino più datato. Ci siamo già arrivati in passato, ma ci arriveremo ancora anche qui più. Eh, va bene, va bene. Ottimo. Un ottimo prodotto anche quello che può servire per rinnovare proprio... Soprattutto quando si compra un camper usato. Il bagno, chi è, chi l'ha usato, chi non l'ha usato, oppure casomai qualcuno si è seduto sopra il coperchio chiuso e gli ha fatto la crepettina, cioè poi può succedere queste cose qua. Poi gli ha cascato, prendendo un flacone, gli ha cascato la portoggetti, gli ha cascato sopra qualcosa che gli ha fatto l'ammaccato. E non dimettiamo la comodità di avere due cassette, perché io adesso non so chi vada in giro con una cassetta sopra come possa sopravvivere. Io non ci riesco. È stato il primo acquisto che io ho fatto su questo camper, che abbiamo fatto su questo camper. Ho detto, io ad essere limitato a riempire la cassetta, poi preferisco averne due ed è una cosa che io consiglio a tutti. Due cassette, dal mio punto di vista, è l'equilibrio perfetto per sarsene in giro più o meno tranquillo. Sì, esatto. Benissimo. Allora, un altro accessorio che ho visto e può interessare a tantissime persone e che ha un prezzo anche qui spettacolare, sono i coprivici che tu hai selezionato da due o tre posti e da quattro posti. Per esempio, quella a due o tre posti ho visto che costa 16 euro, 16 euro. Esattamente. E quella a quattro posti ne costa 21,40. Ho visto che sono anche quei coprivici che hanno già l'alloggiamento per il cartello dei carichi sporgenti, quindi non c'è più il problema di come lo metto o come non lo metto sopra questo telo. E infatti, questo è, mi allontano un pochino così si vede meglio, questo è quello che c'è nella scatola che vi ho fatto vedere prima, che era questa. Sì. E abbiamo appunto tre versioni attualmente in offerta, questo come puoi vedere, guarda la scritta qua sotto. Qua porta due o tre bici, poi abbiamo la versione uguale ma per quattro bici. Ok. E poi abbiamo anche una versione dedicata agli amici con la caravan, perché spesso ce li dimentichiamo ma ci sono anche loro, che porta due biciclette ma sul timone. E cosa hai pensato? Diciamo la parte aperta. Ok, questo qua che possiamo guardare adesso, che anche questo ha un costo 13 euro 90, 13 euro 90, è veramente un pezzo, cioè considerando che le biciclette che si mettono, che si proteggono in questi teli hanno un valore nettamente superiore, perché ci sono anche delle bici che chi ama fare questo tipo di sport, ci porta dietro anche delle bici che hanno un certo valore, che casomai stanno sotto l'acqua, che stanno in questo caso dietro a camper o davanti alla caravan, insetti che gli arrivano addosso, oppure sassolini perché qualcuno di fianco ce li schizza così, in questo caso sono più che perfetti. Quando piove, quando piove, cosa vedi che non tira su dietro? Cioè fa una lunga di acqua sporca, sabbia, di tutto, che per questi soldi non ha senso, non ha senso spostare una bicicletta o rovinarla per così poco. Esatto, polvere o... e poi io vedo anche un altro aspetto sui copri bici, che a me piace tantissimo, che è quello che nascondono che biciclette hai sotto, perché casomai lasciare bella vista la bella bicicletta nuova, oppure una di quelle che chi se ne intende sa che può avere un certo tipo di valore, dà più nell'occhio rispetto a un, diciamo, un copri bici che le nasconde e quindi dà molto meno nell'occhio. Sì, si vede che ci sono delle bici sotto, però non vede che tipo di bici c'è e quindi... Esatto, sono perfettamente d'accordo con te. Come si dice lo carriamo. Perché poi alla fine è un attimo, chi è bravo le smonta in un attimo, se ne vede subito quello che gli interessa, fa presto, se invece devi andare lì a tirare via il telo e vedere che cosa c'è sotto, poi trova che casomai non gli interessa. È anche un deterrente, secondo me, per il furto, il portabici, le coppie bici. Esattamente, sono perfettamente d'accordo con te, Lorenzo. Tra l'altro il kit comprende già la sacchettina per tenerlo, quindi quando non ci serve lo pieghiamo e lo mettiamo qua dentro. Ha, come dicevi tu, la predisposizione, che lo faccio vedere sulla scatola, quello se no poi dopo devo piegarlo. Una tasca trasparente dove inserire il cartello. E in dotazione ha già, per fissarlo ed evitare che sbatta, una serie di cinghie con la fibbia, che servono per la durata. A volte capita qualcuno che dice, eh ma i teli non durano niente. Spesso e volentieri è perché non vengono fissati bene. Perché se il telo sbatte a contatto con le superfici appuntite delle biciclette, facciamo conto, una leva del freno, per esempio, questo si fa 300 chilometri a sbattere, prima o poi la leva del freno buca. Mentre invece se il telo sta ben tirato e ben teso con le sue fibbie, il telo non sbatte e durerà una vita. Esatto, un bel consiglio questo, perché spesso si vedono dei teli che fanno degli sbattimenti e oltre a non essere bello a vedere, poi ci sono anche rumorosi, ci possono anche rovinare più, ci rovinano anche più velocemente. Invece se uno li tiene tutti per i belli tesi, hanno una durata maggiore. Poi questi qua costano veramente poco e se uno ha già un telo che è già un po' vecchiotto, perché no? Poi c'è anche il cartello integrato, quindi secondo me è un prodotto molto molto interessante. E non è un prodotto di scarsa qualità, parliamo di un prodotto di qualità ottima nonostante il prezzo, è lo stesso identico prodotto che viene venduto con marchi molto più blasonati a cifre triple, perlomeno doppie. Ok, perfetto, hai fatto bene a puntualizzare questo. Un'altra offerta di questo mese è questo inverter, un inverter anche qui, anche qui un inverter da 9,90 euro, da 150 watt. E poi questo qua è quell'inverter furbo da presa a 100 sigari, quindi che lo puoi utilizzare in qualsiasi momento, senza bisogno di stare a cablare o attaccare le batterie o fare tante altre cose. Esattamente, eccolo qua, col suo cavettino a molla, la sua presa a 100 sigari, fusibile direttamente sulla linea. Interessante, perché il fusibile serve per proteggere un eventuale sovraccarico e quindi... Si toglie la vitina e sotto c'è il fusibile. Questo qua è un 150 watt, onda a quadra modificata, diciamo che va bene per tutto quello che è la piccola elettronica, se ci dobbiamo alimentare per dire un piccolo televisore, una fotocamera, ricaricare i telefonini, qualunque apparecchio che stia sotto i 150 watt, si può attaccare senza problemi. Certo, se dobbiamo attaccarci magari delle apparecchiature un pochino più complesse, come può essere un motore rotativo o roba del genere, allora sarebbe meglio un sinuso di dare puro. Ma diciamo che questo non nasce per quella destinazione, questo è per la comodità... è una cosa rapida, dobbiamo attaccarci, ci serve un attimo, tra l'altro attacchiamo la nostra presa accendisigare, attacchiamo il nostro caricabatterie per il telefonino e in 448 ce lo ricarichiamo. Ha comunque una potenza di picco di 300 watt, eh? Si vede, non so se si vede qua in parte. Sì, sì, si vede. Per la pena. 300 watt di picco, quindi... Quanto a continui? Questo è molto importante perché ci sono degli apparecchi elettronici, elettrici, che assorbono a caso mai 100 watt, ma per partire ne ha bisogno di 200. Esattamente. Quindi quello lo riesce a dare ed evitando quindi di dare in protezione e di non riuscire neanche ad accendere... Esattamente, per alcuni secondi è in grado di sopportare anche il 300 watt. E poi un'altra cosa che secondo me è molto comoda, vediamo se si vede bene, qua, è dotato anche di un'uscita USB. Ah, quindi lo tacchi la pesce di sigari dell'auto o del camper, poi lì ci tacchi direttamente il cabetto. Esattamente, senza avere un, diciamo, un maggior assorbimento legato al fatto di dover innalzare i 12 volt per poi attaccarci il trasformatorino che li riabbassa a 5 per il telefonino. Quindi andiamo a vedere il consumo. Esatto, oppure si può caricare il telefonino e tenere invece la presa attaccato a qualcos'altro, quindi due apparecchi contemporaneamente senza fare triple o altre cose. Esatto. e poi è molto, molto compatto. Basta vedere, adesso non so se rende l'idea, ma proporzionale... 20 centimetri circa, sì, sì. Cioè questo si mette dappertutto, è poco più lungo di una lattina di Coca-Cola. Sì, sì, ma infatti, no, no. Il prodotto poi ha, come ho visto, 9,90 euro, quindi 9,90 euro. E tra l'altro, non è un prodotto a marchio Move, comunque è un ottimo marchio, non è un prodotto, un cinese senza marca che arriva da chissà dove. Costa di più un caricabatterie da viaggio di uno smartphone. Sì, è vero. Al limite uno prende questo, ci attacca la porta USB e risparmia rispetto a un caricabatterie da smartphone. Sì, 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 sono d'accordissimo. Anche questo ha un prezzo molto vantaggioso, perché ne abbiamo acquistati veramente una quantità spropositata e li abbiamo messi a un prezzo folle, direi, perché 9,90 euro neppure la Cina lo fa arrivare. Accidenti, 9,90 euro è veramente un prezzo per un inverter, comunque onda quadra, onda quadra con 300 watt di picco, che comunque è già un'ottima potenza per la stragrande maggioranza degli utilizzi più comuni. Per le utenze, certo, non possiamo pensare di collegarci a un climatizzatore o un frigorifero a compressore che hanno spunti sempre. O una macchina da caffè o tante altre cose. Quello serve per spaccare le fatture. Un piccolo televisore, un piccolo, neanche tanto piccolo, perché non c'è ci vuole andare a un televisore abbastanza grandino, penso un 32 pollici, ci vanno senza problemi. Ci si può fare andare un decoder satellitare, ci si può fare andare, che so, un tablet, una stampante, un sacco di cose. Perfetto. Adesso siamo arrivati all'ultimo prodotto, che anche questo per me è un prodotto molto interessante, perché al giorno d'oggi bisogna essere pronti a... L'igiene, soprattutto la disinfestazione delle mani, è uno dei rimedi più efficaci per, diciamo, evitare il problema che abbiamo adesso. E tu hai messo un gel per le mani a 2,50 euro. Esatto, eccolo qua. È l'Anderson della Flow. Flow penso che lo conoscano ormai quasi tutti, forse tutti no, ma buonissima parte, perché come sai è uno dei marchi storici che ci accompagna quando siamo presenti al Salone del Camper. Noi abbiamo affidato... O meglio, Clos è affidata a noi, non dico unicamente, ma quasi per la commercializzazione dei loro prodotti. Loro ci danno il loro liquido chimico, che è un chimico di ottima qualità, a un prezzo veramente molto conveniente. ci danno il loro prodotto per le acque grigie, dei decalcificanti, prodotti per la pulizia delle stoviglie senza schiuma, prodotti per la pulizia dell'arredamento interno, sanificanti per i serbatoi. Ci danno veramente tantissimi prodotti che vendiamo molto, tutti molto buoni. E quando si è presentata la problematica del Covid, loro che sono sempre molto attenti alle esigenze del pubblico, ci hanno proposto anche l'AndSan, che non è altro che un gel a base alcolica, simile a Buchina, diciamo, che serve appunto per sanificarsi le mani. Costa veramente poco, 1,50 euro, e ci permette appunto di stare tranquilli quando siamo in giro con il nostro bel camperino che andiamo a vedere da qualche parte. Abbiamo toccato un po' qualche cosa, ma anche i bambini, casomai sono andati a fare un gioco al parco, hanno toccato dei giochi, e la mamma dice, vieni qua che facciamo la merenda, però prima disinfettati le mani, con lì te lo porti sempre dietro, e tu sei a posto, e quella trasmissione che si può prendere con le mani, perché casomai si mettono in bocca, viene neutralizzata da questo tipo di gel. al giorno d'oggi purtroppo le difese più uniche sono le mascherine e il gel per le mani, poi naturalmente l'attenzione, tutto quel distanziamento, però già il gel delle mani e la mascherina sono quelli, sono mai i nostri compagni di viaggio, perché per un po' di tempo ce le portiamo dietro queste cose qua. Esatto, c'è a dire poi che questo è molto buono, ha un'ottima resa, proprio ne basta una goccia, ha una densità tale, che si spalma proprio veramente molto bene, quindi sì, il flacone è piccolo, ma dura tantissimo, io questo non è un flacone che ho preso per la presentazione, ce l'ho sempre qua sulla scrivania, perché quando arrivano i corrieri, quando arriva un cliente, quando arriva qualcun altro, io salgo e mi sento la mano, sarà qua da credo tre mesi ormai, e il conto è che lo userò cinque o sei volte al giorno almeno, perché ne basta una goccia e le mani sono sanificate. Diciamo che se in occasione di un acquisto su Camping Life, come si mette dentro la cartigenica, dentro l'ordine, si mette dentro anche il gel per le mani, dai. Di questi tempi sono assolutamente d'accordo, è una dotazione che costa veramente pochissimo e non deve mai mancare nella borsetta dei nostri signori, signore nel nostro camper, nella nostra macchina, bisogna sempre averlo. Ormai è così, per qualche anno temo che dovremo farci la vita. Sì, l'igiene sarà sempre di più una cosa che dovrà essere molto curata, l'igiene, sempre di più. Va bene Alberto, è stato interessantissimo, spero che sia stato altrettanto interessante, anche per gli amici di Vacanze Grande, che hanno visto fino alla fine questo video, ma con Alberto, che è così disponibile e bravo a presentarci le cose, il tempo è volato, devo dire che è volato. È già quasi un'ora che siamo in bar. Esatto, è già quasi un'ora. E voglio dire, scadenza dell'offerta è fine di marzo. Esatto, l'ultimo giorno di marzo. Dal primo di aprile arriveremo con altre nuove offerte. esatto, quindi fino al 31 marzo avete questi prezzi fermi per ordinare questi prodotti, poi comunque nel sito ci sono tantissimi altri prodotti che hanno dei prezzi molto vantaggiosi, ormai non sono in offerta, però hanno lo stesso dei prezzi molto bassi, che vi consiglio di andare comunque a vedere, perché Camping Life è uno di quei siti dove si acquista prodotti in maniera molto conveniente. Quindi, secondo me, poi abbiamo Alberto che lui se per qualsiasi necessità di chiarimento o di informazione aggiuntiva o anche per avere più delle suddizioni tu sei sempre disponibile. Assolutamente sì, sempre basta una mail, due righe, anche un whatsapp, volendo, noi rispondiamo generalmente in tempi molto rapidi, salvo che ci siano problematiche particolari, che dobbiamo anche noi informarci con altri, ma normalmente pochi minuti, massimo mezz'ora, si risponde più o meno a tutti. Ok. E i tempi di consegna sono sempre molto rapidi? Allora, tutto quello che ti abbiamo indicato, tranne il portabici, è subito disponibile. quindi ordinato entro le 10 di mattina, parte il giorno stesso, il giorno dopo in teoria in consegna, salvo che faccia qualche casino il corriere, ma di norma il giorno dopo in consegna. Mentre invece per i portabici, purtroppo ci hanno segnalato un lieve ritardo delle consegne, dovrebbero arrivare a noi il 9. Sì, quindi per qualche giorno, potremmo dire. Sì, esatto, 5-6 giorni dovremmo averli. Nel momento in cui i sitoli da disponibili, partono il giorno stesso. Tenete presente comunque che il sito lo dà in tempo reale la disponibilità, ma è possibile comunque prenotarli prima. Se non volete rimanere senza, perché comunque le quantità di quel tipo di articolo non saranno spropositate, è bene prenotarlo prima, anche se non è disponibile. Poi appena arriva, noi ve lo spediamo subito. Sì, perché i prezzi sono eccezionali, quindi potresti anche far, esaurirsi anche questi prodotti per chi aspetta un tuo minuto, proprio perché i prezzi sono veramente eccezionali. Diciamo che quasi tutta l'offerta ne abbiamo ampie scorte, quindi dovremmo coprire senza problemi tutto il mese. Le uniche difficoltà appunto potrebbero essersi sul portabici perché il fornitore ha più di tanti e non riesce a fornirne e per i tendalini, perché anche lì purtroppo a causa del Covid ci sono dei ritardi con i vari container di materiali e così via per i fornitori e quindi anche noi stiamo subendo un pochino di ritardi. Abbiamo una certa scorta, però se ci viene chiesto una quantità enorme ovviamente dobbiamo anche noi riapprovvigionarli. Certo. Va bene, metodi di pagamento, i soliti a pagamento digitali, quindi... Esatto, carta di credito, Paypal, Satisfay, bonifico anticipato, poi cos'è che c'è ancora? Possiamo fare un contrassegno con 5 euro in più, così possono pagare in contanti al corriere direttamente e non mi viene in mente altro. Dovrei averli scatti. No, 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 ne hai già detti tutti, se uno ne ha un altro vuol dire che è proprio fuori dal mondo. Ah, anche la carta di credito, l'ho detto, la carta di credito. Sì, sì, l'hai detto, l'hai detto. Perfetto, cari amici di Vaccarlandia, mi sa che per questa puntata relativa alle offerte di Camping Life di marzo 2021 dovrebbe essere tutto. Sono stato contentissimo. Io quando vedo degli accessori già mi si dubbino tutti gli occhi, perché io vivrei, noterei dentro gli accessori, io farei il bagno, Marzia di certe volte mi sgrida che penso più agli accessori camper che all'entro. Poverina. È una passione che io ho e tenere il camper è bello e soprattutto gli accessori giusti, far sì che la vacanza venga fuori giù, è migliore, perché si riducono gli imprevisti e tante altre cose e quindi secondo me con queste offerte se qualcuno le trovate interessanti conviene che sapresti per poter avere la possibilità di avere quei prodotti a quel prezzo. Soprattutto prodotti buoni perché hai sempre rimarcato che comunque sono prodotti di una certa qualità, di marchi, abbiamo marchi buoni, tool, flow e tanti altri. Quindi parliamo comunque di roba, di materiale in un certo livello. Abbiamo sempre scelto come Camping Life di cercare prodotti che avessero il massimo del rapporto qualità-prezzo. Questo per tutto. Ci sono tantissimi prodotti che si trovano in commercio a marchio blasonato a una certa cifra e abbiamo sì anche quelli a marchio blasonato ma abbiamo lo stesso identico prodotto dove spesso cambia solo il colore o la scatola a un prezzo molto più concorrenziale. È il caso appunto di questi copri bici è il caso di tanti accessori in silicone che abbiamo tanti, tanti, tanti articoli. Va bene. Perfetto. Grazie mille Alberto per il tempo che ci hai dedicato e sono certo che tanti amici di Vacanzalandia troveranno molto interessanti le tue offerte. Cosa dire di più? Cari amici di Vacanzalandia se questo video vi è piaciuto potrebbe piacere anche ai vostri amici quindi condividetelo perché farete soltanto bella figura e salutiamo Alberto che lo facciamo ritornare alla sua occupazione di preparare tutti i pacchi che sono stati ordinati in questa giornata e noi ci troviamo ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti ciao Alberto ciao Lorenzo e un saluto a tutti gli amici di Vacanzalandia ok buona Vacanzalandia a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.